Ciao, nel video di oggi vi mostro come realizzare delle onde semplici e molto adatte per il periodo natalizio. Quello che ci serve è un semplice ferro, questo ha un diametro abbastanza ampio che ci permetterà appunto di realizzare delle onde piuttosto che dei ricci molto definiti. Per consentire la durata più a lungo del tempo vado a fermarli con dei mollettoni, dei becchi in questo caso, che resteranno per alcuni secondi, alcuni minuti anzi diciamo, fino a quando appunto il capello non si è raffreddato. Se volete una durata ancora maggiore voi potete tranquillamente tenerlo anche per una o due ore fino a quando appunto dovrete uscire. Proseguo realizzando i ricci sempre nella stessa direzione in modo da dare uniformità al capello appunto alla piega, quindi arricciando i capelli verso le spalle, quindi lontano dal viso. E proseguo a varie sezioni di volta in volta, appunto andando a rotolare attorno alla piastra, o warfare in questo caso. Come vedete non è niente di complicato. Anzi, è anche abbastanza veloce perché in totale, nonostante io abbia velocizzato in questo caso il video, ho impiegato per realizzare tutta l'acconciatura circa 20 minuti, non di più. E non stavo nemmeno nella mia postazione abituale. Per quanto riguarda il ciuffo, semplicemente vado a realizzarlo, cerco poi, pettinandolo con le mani, di uniformarlo al resto dei capelli. Poi vado ad applicare un po' di lacca, dell'olio allucidante e abbiamo finito. Per dare maggiore volume vado leggermente a cotonare con la spazzola la parte alta della testa. Ecco fatto, ecco qua. Ciao ciao!